A completo, iniziamo. Chiudiamo la tua stima, grazie. Mi sentivo un po' di pubblicità, mi schiamazzo. Allora, ragazzi, io inizierei a socializzare un po' con voi. Magari, se volete distanziarvi ancora meglio. Questa è una... Allora, sono tre anni, magari qualcuno di voi mi conosce, mi ha visto in qualche classe. Sono tre anni che sto qui a Senze. Avevo sentito parlare di questa possibilità di presentare progetti. Allora mi è venuto in mente questo progetto motivazionale che non è presente nelle scuole. Però la cosa che mi ha fatto pensare che poteva essere l'ideale è perché nelle scuole viene a mancare la motivazione. Sono stato anche io, alunno, e so che la motivazione viene a mancare. Ho iniziato, ho finito il liceo scientifico, ho iniziato l'università, ho conosciuto questo torso, questa parola del coaching all'università. Grazie a un incontro che abbiamo fatto con una psicologica, coach. e quando ho iniziato a parlare di PNL, programmazione neurolinguistica, dobbiamo raggiungere gli obiettivi, come facciamo a raggiungere gli obiettivi? Solo con la forza della mente, no? Mento a posto, sono rimasto colpito. Mi sono andato a cercare un master, un master fatto a Roma, 1600 ore, argomenti tutti, per uno che ha fatto lo scientifico è tentato a fare l'economia e commercio, l'economia e finanza imprese è pazzesco. E quindi tutti argomenti nuovi, argomenti pochi, adesso andrete a vedere, si parla di successo, di fallimenti, è un allenamento mentale che ho fatto su di me. E ho detto, ma un giorno lo andrò a riproporre ai ragazzi. L'ho messo sempre da parte, l'ho messo sempre da parte, non sono mai riuscito a trovare il momento giusto, perché, quello che dicevo prima a Fidani, se non ti butti non saprai mai i risultati. E così pure Tostro, che diceva, forse sì, sarò un personal trainer. Ci dobbiamo buttare, dobbiamo realizzare i nostri sogni, perché i sogni, e l'ho provato su me, sono ingabbiati. Ricordatevi sempre, quando i genitori vi dicono, devi studiare, devi studiare, devi studiare, per carità hanno ragione, ma non è quello il verso giusto per motivare un ragazzo. Perché loro fanno di tutto, fanno il loro dovere, ma non è così che si motiva. Lo sapete perché? Perché voi a pochi chiudete la porta e ne andate, magari non ci state così, perché la mente è collegata sempre al cuore. Quello che vuoi veramente fare, lo sa solo il cuore. E lo sapete perché non lo fate? Perché c'è la paura. Lo sapete perché io sono arrivato fino ad oggi? Io non uscivo a realizzare questo corso, magari c'era anche la collega dello scendito, ma perché non inzio il corso, perché inzio il corso? A parte che faccio il pedolare, e io non volevo fare bene questo corso, non posso venutere i ragazzi, devo farlo per me, lo devo strutturare. E' stato per me stare qui, io faccio un'ora in mezzo di viaggio, andato, un'ora in mezzo di viaggio, ho tornato. Quindi è qualcosa di... Per me è brutto e lo devo fare, a qualsiasi costo. Devo iniziare e vi devo puntare. E il corso di coaching mi è servito anche in un momento dove pensavo che tutto fosse appannato. Ho scritto all'università, non riuscivo a trovare la strada per realizzarmi. Perché? Per il fine della vita siamo delle sfetture, ti viene a mancare il padre, ti viene a mancare tanta roba, no? Ti viene a mancare la pazza. E allora ti cerchi di arrabbicarti da qualsiasi parte, da dove inizio, che cosa farò, dove andrò. E' un po' come voi, no? Io qui in tre anni ho incontrato, ho fatto un po' di sostegno, ho fatto anche la cattedra, ho incontrato ragazzi che al di là delle loro problematiche, ho incontrato dei ragazzi che stanno in difficoltà. Ma la difficoltà, ragazzi, è relativa. Perché? Come il coraggio, quando ognuno di noi fa sport, no? e ci insegnano ad avere il coraggio, a lottare, a fare allenamenti, eccetera, anche la paura è un allenamento. La paura è allenamento. Noi ci alleniamo a pensare al negativo. Cosa farò? Cosa farò? Cosa farò in futuro? Chissà se andrò bene. Il coraggio è allenamento. Quindi la nostra furbizia, e questo corso mi ha insegnato tanto, è allenare il coraggio, allenare il positivo, l'allenamento positivo che ci insegnano i coach. Se qui il nostro amico posto vuole fare lo sportivo, quindi lui saprà che deve allenare, allenare oltre a fisico anche la mente. di ognuno. Perché l'allenamento mentale è la cosa essenziale. Fallisce soltanto chi smette di provare. Perché non ci sono i fallimenti. I fallimenti non esistono. Esiste il successo, esiste la mente proiettata al successo. Perché noi lo spazio che facciamo e che siamo limitati. Non riusciamo a guardare oltre cosa farò nel futuro. Ci dobbiamo dare gli obiettivi, scriverli, analizzarli giorno per giorno. Adesso faremo un esercizio. Il primo di questo corso che è una fotografia. La vostra fotografia. La fotografia di come sto oggi. La mia esistenza oggi. Ragazzi, questo è il corso deve essere la base. Qui siete del quinto. Cosa farò io? Dicevo, cosa farò? Cosa farò? E dove andrò? E chissà se l'università, l'economia va bene. Chissà se è giusta per me. Nessuno lo sapeva. Nessuno. L'ho capito tardi. L'ho capito dopo averla fatta, dopo averla sudata l'università. E ho capito, grazie a un corso del genere, come bisogna guardare il futuro. Come lo si deve analizzare, come lo si deve accogliere. Ricordatevi sempre che la vita ci dà tanto. Ma se noi non apprezziamo, non amiamo, non accettiamo la velocità della vita, la vita la sta da riprendere. E' come quando qualcuno vi fa un regalo, un amico vi fa un regalo e vi dice grazie. O quello mi dice proprio lì, mi sono pregato. Quando la vita ci presenta delle opportunità, una volta le guardiamo e scazziamo. E invece le opportunità vanno a volo, vanno presa al volo, vanno vanno ringraziate. Anche in quanto la vita ci dà di vanno ringraziare. E' stupendo. Io mi chiamo a dire questo Giovanni, Giovanni Russo, tre anni che sto qui e che vi ho conosciuto e mi siete entrati nel cuore fin dal primo giorno. E questa è stata la mia prima scuola e prima ce l'altro. Facevo la contabilità in un villaggio turistico. Siccome la mente ha voglia di cambiare e non volevo stare statico, tutti i lavori sono apprezzati perché tutti i lavori sono bellissimi. Però bisogna cambiare, bisogna provare. se la mente non trovi io non sentivo la tranquillità. Quando devi lavorare devi tirare fuori la felicità. Tirare fuori la felicità è un allenamento. La felicità non è che per colpa del lavoro si deve abbannare. se domani le nostre amiche volessero aprire un ristorante devono sapere che il lavoro che andremo a fare tra commercialisti, tra consulenti, camerieri, chef ha un costo in termini di tempo. ci vuole tempo ci vuole denaro ci vuole passione ma non è che tutto questo deve abbannare la felicità. Se volete aprire un ristorante se vuoi aprire una palestra se vuoi aprire un ufficio da commercialisti centro esterico e poi devi sapere che ci vuole tempo passione denaro devi creare un prodotto il prodotto è fondamentale per posizionarti sul mercato il prodotto ti permette di farti comprare e di vendere e quando sei dinanzi al venditore non devi avere solo una proposta ma tu hai proposto perché quando sei dinanzi all'acquirente perché l'acquirente vuole alla prima trova sempre un'obiezione alla seconda è testato è provato non una sola proposta ma due proposte per vendere questa è l'essenziale è l'essenziale per posizionarsi sul mercato il posizionamento è fondamentale quello vedremo prossimamente la prossima volta vedremo come risvegliare la mente nello sport nel lavoro nella vita di tutti i giorni ma l'essenziale è capire che dobbiamo proiettarci la proiezione al futuro è fondamentale ragazzi faremo una prima direzione adesso alzatevi in piedi e il corso prevede un riscaldamento